L'accesso al credito diventa spesso un ostacolo insormontabile per tante aziende, impossibilitate talvolta a disporre di quella necessaria liquidità per lo sviluppo delle proprie attività. Così oggi, in tempo di crisi, complice anche l'elevata pressione fiscale, si investe sempre meno. Il ruolo della finanza diventa cruciale per sostenere il sistema imprenditoriale anche in provincia di Salerno, dove la crisi sta producendo i suoi drammatici effetti. La finanza a sostegno dello sviluppo imprenditoriale è stato il titolo di un interessante seminario che si è svolto nella sede di Confindustria Salerno. Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nel sostegno delle imprese è quello di mettere a disposizione risorse sia per supportare l'offerta di credito tradizionale, quindi attraverso le banche operanti sul territorio, sia promuovendo l'utilizzo di strumenti nuovi, quindi i mini bond e i fondi di venture capital che noi mettiamo a disposizione attraverso i fondi in cui abbiamo investito. Oggi però l'accesso, almeno così denunciano le imprese, all'accesso al sistema creditizio diventa estremamente difficoltoso, no? E questo rappresenta un limite, un ostacolo? Innanzitutto noi contribuiamo all'offerta di credito per finanziare investimenti a lungo termine. Con i nostri strumenti andiamo a coprire liquidità che offriamo alle imprese tramite le banche a 5, 7, 10 anni per far contribuire alle ripartenze degli investimenti e quindi a supportare il ciclo economico. Qual è lo stato di salute del sistema industriale salernitano in questo momento? È uno stato a macchia di leopardo perché le medie di settore non sono più significative, vale nella nostra città come in tutto il paese. Abbiamo aziende all'interno degli stessi settori che vanno molto bene, molto male, mediamente bene e mediamente male. Aziende che hanno reagito e che sono più orientate all'export, che è un mercato che comunque continua a crescere, aziende che affannano perché più orientate al mercato domestico. Intercettare le nuove rotte dello sviluppo e i nuovi consumatori. Si prevede che nei prossimi anni, proprio nei paesi in via di sviluppo, ci saranno 300 milioni di consumatori che sono potenzialmente interessati ai prodotti italiani e la sfida delle imprese italiane e quindi anche salernitane. Per fare questo però occorrebbe anche fare squadra, sfruttare ogni risorsa possibile, compresa quelle che offre il sistema finanziario. Spesso diventa difficile per un'azienda per tanti motivi accedere al sistema creditizio. È evidente che senza crescita non c'è credito ed è anche evidente che purtroppo per la crisi il credito da inclusivo è diventato selettivo. Questo pone una questione culturale all'interno delle imprese, aprire i propri capitali privati a fondi di investimento, quindi una cultura nuova, intercettare flussi di credito che non siano necessariamente capitali di debito e una dimensione di attenzione ai fondamentali di impresa che è determinante, che riguarda l'interno delle imprese e riguarda la politica economica del Paese, una politica economica orientata alla crescita nell'interesse del Paese e delle sue imprese.